le temperature saranno in deciso calo e continueranno a perdere qualche grado anche per la giornata di domenica bene questa era l'ultima informazione vi ringrazio per l'attenzione e dunque lo avete sentito i titoli è qui con noi carlo conti contatore direttore artistico del festival di sanremo 2025 benvenuto buongiorno valentina buongiorno amici del tg1 finalmente ci svelerai i nomi dei big in gara in assoluto vogliamo sapere quanti sono 30 ecco qua il foglietto dei 30 che saranno protagonisti del festival di sanremo del 2025 vai siamo pronti inizio vai achille lauro gaia comacose francesco gabbani willy peyote noemi rkomi a Grazie a tutti. Grazie a tutti.